vendite in europa vendite in america cosa fare sui mercati ce lo dicono i protagonisti di house of trading oggi ovviamente io e nicola ci accordiamo sempre per per offrire una strategia unica ecco quindi io stavo adocchiando il dax ovviamente che è arrivato su delle zone molto interessanti e ho proposto anche un certificato diciamo dei nuovi con gli orari estesi su un turbo unlimited long sul dax molto interessante anche perché questa operazione non ha una leva altissima un long di dax con una leva sull'otto e mezzo ma è un'operazione che ha bisogno di respiro anche perché il livello che ha inserito è un livello molto interessante l'area dei un'area che uscilla tra i 14.950 e 15.070 ho messo il livello più preciso possibile che avevo tenendo in conto ovviamente il prezzo spot del certificato e quindi questo livello che è di ingresso a 14.956 è un livello molto importante per il dax e se dovessimo raggiungerlo spero già questa stiamo parlando di una di un crollo di altri 150 punti approssimativamente sarebbe un bel livello da cui aspettarsi un bel pullback ma di quelli solidi quindi sono convinto che ci è questa possibilità questa settimana sarebbe un bel punto da dove ripartire perché la zona esatta da cui partì il rialzo di marzo praticamente uno dei livelli chiave da cui partì il rimbalzo di marzo e poi il dax ha fatto quello che ha fatto ovviamente è un'operazione puramente speculativa non ci sono ancora le condizioni per un cambio long di medio termine dobbiamo aspettare ancora qualche settimana anche come diceva Jacopo siamo nella fase in cui il mercato ciclicamente prima seconda settimana di ottobre è un periodo molto delicato e dovremo stare molto attenti io quindi sul dax provo questa strategia long anche perché questo livello sono convinto che ci saranno delle reazioni il target è un po' ambizioso abbiamo un'operazione 1 a 1 niente di che con una leva normale e target 15.240 sono del tuo compagno di squadra in questo caso con la leva 1 a 1 no vabbè non posso mettere una leva troppo alta per un'operazione diciamo di dire cioè che ha bisogno un po' di oscillare ecco se mettevo una leva 20 non sarebbe stato il caso già questa è altina però sappiamo che il dax è famoso per queste reazioni quindi ci sta ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale bmp paribas attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading